Toshio presenta Satellite U50, in questo caso nella versione T, quindi con schermo touchscreen, Windows 8, schermo con diagonale da 15 pollici e 6, tastiera full compresa di tasterino numerico, dotazione completa di processori della gamma Ultrabook di Intel in tutte le varie dotazioni, hard disk fino ad 1 tera di capacità, memoria fino a 16 giga, dotazione di porte completa, rete HDMI, due porte USB 3.0 sul lato destro, una terza porta USB in questo caso 2.0 sul lato sinistro il jack, cuffie e microfono e lo slot per il lettore DSD. In questo caso monoblocco, quindi con batteria non accessibile da parte degli utenti, ma ha tutta vantaggio del design che invece si mantiene molto leggero e molto sottile, pur essendo un 15 pollici e 6, siamo a 2 kg di peso anche nella configurazione consumer più spinta. Disponibile già dal mese di settembre sul mercato italiano, è disponibile sia nella versione U50 o U50T, quindi con processori Ultrabook o esattamente sulla stessa scocca, ma cambiando processori nella serie M50 o M50T con processori standard e performance normali, sempre Intel.